D'accordo, perché questa zona non è tranquilla. Questa zona? Questa zona è un po' più ricorrosa. Come si chiama questa zona? La Salin. Ah. Bulva, non la Bulva, la Salin. E' la zona dell'Ename. E' la scuola? La scuola distrutta? Sì, sì. La comunità di Salisiana. Perché dici che è dura questa zona? Per la sicurezza. Alcuni cercano a prendere cose, a rubare così, così via. A arrestare le macchine, a chiedere soldi dalla gente. Qui è un problema di gas per le macchine. Non hanno gas, allora tutti cercano di fare un po' di gas. Ecco. Questo qua, adesso, nuovamente è una grande strada, una grande via. Normalmente è larga, molto ampia. Ma vedete che... Ah, quella è là? Ah, ma che tutto. Vedete che... Vedete che tutto è distrutto. Non c'è più quasi strada. Però era una strada di... Molto grande, molto ampia. Cos'è l'Ename. Questa è una strada delle suore salesiane. Volete entrare? Volete entrare? Vediamo, non c'è spazio per... Allora, non si può. E io non voglio che voi scendete dalla macchina. Capito? Allora, questo è il centro dei Porto Prens. Vedrete che tutto, tutto è distrutto. Prenderete il tempo di vedere. Inshallah che potete vedere qualche cosa. Questi sono quartieri molto poveri anche. Erano prima poveri. Adesso, migliore. Forza, forza. Questa è una zona dove c'erano sempre delle... Tanta gente. È un mercato qui. È tutto distrutto così. Giù sotto è una chiesa, una chiesa cattolica. Sotto. Vai più piano? Difficile, ragazza. Perché la nostra sicurezza non c'è adesso. Non c'è sicurezza per noi. Allora, voi siete stranieri. Io, come aiziano... Devi restare qua. È un po' pericoloso. Capite? Avete capito? Paola. Allora, devo dirvi che adesso c'era un grande lavoro ad essere fatto. Perché io prima ho passato qui, c'erano morti dappertutto. Si deve vedere, fare attenzione per evitare i morti. Hanno preso tutti quanti. Vedete che cosa è? La polizia che fa controlli perché ci sono tanti che stanno rubando alla gente. Mi spegni la radio. Avete visto? Sì. Eccoci qua. Perché? Ma poi c'era un po' di sini, se c'era un po' di timore e pot 죽論 dello che stanno rubendo. E siamo crossati! E spiegare! E ce che c'entrì! Ma come? nelle loro case così ecco questo è il centro commerciale della città forse dopo passeremo sopra per vedere un po' la cattedrale e altre cose, vediamo questo è un mercato grande tutto questo mercato che è sempre riempito di gente massa di gente grazie a tutti grazie a tutti